E salve a tutti ragazzi, qui è come sempre il vostro Gabri Costa e benvenuti in questa nuova recensione. Ascoltatemi, in questo videogioco Crash Team Racing Nitro Fueled, ora in questa Baia Crash dobbiamo raccogliere le lettere CT ed R, capite? Se riusciremo a farcela, vinceremo una ricompensa. In questa Baia Crash vinceremo un gettone CTR rosso. Intanto ho trovato la T. Ecco la lettera C. Ora non ci resta che trovare la R, capite? Ve l'ho ripetuto mille volte. Raccogliete le lettere CT ed R su ogni pista e arrivate primi per vincere un gettone CTR. Alcune lettere sono difficili da scovare. È vero, alcune lettere sono difficili da trovare. Bene, abbiamo belle già finito ragazzi. In questa Baia Crash abbiamo raccolto le lettere CT ed R e ora dobbiamo arrivare primi per vincere il gettone CTR rosso. Ricordatevi che i gettoni CTR sono colorati e dobbiamo vincerli. Se no non sbloccheremo la coppa gemma. E ricordatevi che io voglio sempre usare coco bendito. Io non lo sapevo che per la prima volta nella modalità avventura si può personalizzare e cambiare personaggi e carte. Bene, abbiamo finito ragazzi. Siamo arrivati primi in questa Baia Crash e abbiamo vinto il gettone CTR rosso. Ora se il video vi è piaciuto condividetelo, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, un arrivederci, un bacione e un ciao da Gabriosta. Grazie a tutti per la visione. Noi ci vediamo alla prossima. Alcuni sono facili da vincere, mentre altri sono difficili. Ma ci proveremo. Arrivederci a tutti.